L'Olaf, che è l'organismo antifrode europeo, ha stimato in 60 miliardi all'anno il costo della corruzione nella pubblica amministrazione per gli italiani. La corruzione nella pubblica amministrazione è un fenomeno grave ed esteso, tanto che la possibilità che un appalto pubblico venga giudicato in seguito alla corruzione del decisore supera il 10% delle gare. Un dato allarmante è che sabato sarà il centro di un convegno a Vicenza, al quale parteciperanno magistrati, politici, consulenti bancari e altre figure di spicco nella lotta alla corruzione, perché il cittadino ha delle armi per potersi difendere da quello che è un danno serio a tutta la collettività. Intanto fare in modo da non dare per scontato il fatto che se c'è la corruzione non si può fare nulla. Partendo dagli imprenditori, è importantissimo che gli imprenditori sono oggetto di iniziative che portano a constatare che c'è questa corruzione e che abbiano il coraggio di denunciarlo. Se il sistema delle tangenti negli appalti pubblici pesa 60 miliardi di euro all'anno, viene spontaneo domandarsi quanto potrebbe migliorare la situazione delle nostre finanze se questo fenomeno venisse contrastato in maniera efficace. È un costo, non è che se qualcuno è corrotto o corrompe, questo è un problema dello Stato, di un'entità non meglio definita, ma è un problema per tutti i cittadini. Questa consapevolezza deve essere di tutti noi per fare in modo da agire tutti assieme perché un fenomeno deve essere debellato.